Sono Flavia Monceri e questa è una breve presentazione del corso di Multiculturalismo e Comunicazione Interculturale. È ormai di moda dire che viviamo in un contesto multiculturale, più o meno a seconda delle regioni, delle città, dei paesi, e che quindi dobbiamo essere in grado di comunicare anche in modalità interculturale. Ma poi non è che ci siano molti corsi introduttivi su queste tematiche, così ho pensato di proporne uno, per introdurre prima di tutto ai concetti e alle teorie del Multiculturalismo e dell'Interculturalità, che sono due cose diverse. Poi si parlerà delle varie modalità della comunicazione interculturale, la principale delle quali si sente spesso dire è il dialogo. Ma anche qui non è che ci sia molta chiarezza su che cosa sia il dialogo, quali ne siano i presupposti, in particolare su questo, quali siano i presupposti più corretti per avere un dialogo. Parleremo quindi delle varie teorie dialogiche fra le quali si può scegliere, o siamo chiamati a scegliere, per esempio dialogo socratico, per esempio un dialogo basato sui koan zen, per dirne una, dialogo bomiano, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una particolarità in questo corso che, essendo di comunicazione, prende e prevede una parte interattiva in classe, con esercizi di vario tipo, simulazioni di dialogo, risoluzione dei conflitti, soprattutto etici ma non solo, role playing, eccetera. Lo scopo è cominciare ad acquisire delle competenze, ma anche se non ci si riuscisse in un corso così breve, l'importante è acquisire almeno una comprensione preliminare che se ne avrebbe bisogno per comunicare efficacemente nella contemporaneità.